Parte a rilento la campagna di vaccinazione con AstraZeneca. Le prime 249.000 dosi consegnate all'Italia sono state tutte distribuite, ma le somministrazioni non sono ancora cominciate. Alla base della falsa partenza ci sono sostanzialmente una serie di nodi irrisolti, per sgomberare il campo delle incertezze che stanno creando difficoltà all'andamento della campagna. Dubbi sull'uso di AstraZeneca sulle persone over 55 e senza patologie e sulla data di somministrazione della seconda dose. In Abruzzo per l'avvio della fase 2 è stato scelto Ancarano in provincia di Teramo come comune pilota della campagna vaccinale anti-covid relativa agli ultraottantenni. Domani mattina tre squadre di vaccinatori inviate dalla ASL di Teramo saranno nel piccolo comune Vibratiano, dove il sindaco Angelo Panichi ha messo a disposizione una palestra. Domani faremo il primo, cioè in pratica faremo un primo test di verifica di come dovrebbero funzionare i vaccini che vanno affatti agli over 80 e lo abbiamo scelto facendo Ancarano per vedere, per mettere a punto tutta la macchina organizzativa. Dopodiché da lunedì partiremo con tutte le altre realtà del territorio provinciale per iniziare a vaccinare gli ultraottantenni. E di sera c'è stata una riunione tra il dottor Brucchi e tutti i sindaci del nostro comprensorio e si sta mettendo in atto tutto quello che sarà necessario per far sì che nel momento in cui si inizia, si inizia bene e si faccia quello che va fatto nel più breve tempo possibile per tutelare la salute dei nostri anziani. Stiamo aspettando sul fronte del ministerio anche indicazioni per AstraZeneca come stiamo aspettando altre indicazioni per ulteriori categorie che dovrebbero essere vaccinate. Il dottor Brucchi sta seguendo, tra l'altro anche il referente regionale sta seguendo tutta la vicenda, ma noi ecco dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza per essere, per far sì che tutte le persone che ne hanno diritto possano essere vaccinate nel più breve tempo possibile. Ovviamente molto dipenderà dall'arrivo dei vaccini? I vaccini in una parte già sono arrivati perché per quanto concerne gli anziani useremo Moderna e la Pfizer, mentre dopo bisogna vedere invece AstraZeneca come cominciare a utilizzare e anche qui andremo a fare una pianificazione per poter iniziare il più presto. Grazie.